Mauro Gattinoni, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, quali sono i tre progetti principali che presenta la vostra coalizione nel programma? Come sapete la nostra coalizione ha condiviso una visione ampia di dieci anni, articolata in quattro strategie e lì dentro una quarantina di azioni ben definite. Ecco, se dovessi scegliere le tre principali, sceglierei sicuramente il tema della scuola e della formazione. Noi dobbiamo investire l'eco sui giovani, sia da quando sono bambini, quindi dai nidi, dall'infanzia e via via crescendo, investire in modo che ci siano piena conciliazione nei tempi di famiglia, tempi di studio e poi via via i tempi del lavoro. Quindi questa è la prima esigenza su cui l'eco deve investire. Secondo, una edilizia ed una rigenerazione urbana totale. Possiamo creare posti di lavoro se abbiamo rispetto dell'ambiente, se abbiamo il recupero dell'energia, se abbiamo la capacità di progettare la città di domani che abbia rispetto dei tempi, degli spostamenti, del traffico, della capacità anche di riqualificare spazi che fino ad oggi sono stati abbandonati. Terzo punto in realtà è un sogno. L'intersezione tra le nostre tre piattaforme, Lungolago, Piccole e Pianiderna, sono le tre risorse che potranno attrarre il turismo se opportunamente qualificati e saranno i veri attrattori degli investimenti di domani.